ciao a tutti mi sono venuta a fare oggi una passeggiata qui a viale mazzini e incuriosita del che anch'io non so tante cose di questo cavallo diciamo del cavallo appunto che si trova collocato nella sede di viale mazzini 14 adesso ve lo farò vedere anzi vediamo se si vede l'imponenza guardate che cavallo bellissimo c'è pure un cane qui è nerone guarda il cavallo quanto è grande confronto a te mamma mia non si può entrare dentro allora tutti si sono chiesti questo cavallo che cosa rappresenta si è morente o rampante dall'autore francesco messina siciliano questo cavallo per lui è rampante cioè si sta leccando le ferite dopo una lotta con altri cavalli guardate che bello guardate se volete sapere quanto è grande questo cavallo più o meno quanto peserà allora pesa 25 kg è in bronzo ed è alto 4 metri e 60 e lungo 5 metri e 50 guardate che bello proprio e all'inizio quando è stato collocato qui è stato commissionato dal direttore marcello bernardi nel 64 e l'attore poi lo collocò ci vogliono due anni per realizzarlo lo collocò nel 5 novembre del 66 qui lo collocarono qui guardate che bello ma prima non c'erano tutte queste palme non c'erano ulivi non c'era niente ecco per cui ho voluto sapere questo cavallo sempre uno vede il cavallo di via le mazzine è tutto però magari non sappiamo nulla chi è lo scultore chi chi ecco valeva la pena di di vederlo guardate che nitrisce e secondo me proprio il mio punto di vista no lui dice no no ho lottato ma guardate io mi rialzo sempre perché guardate con che cipiglio come sta come nitrisce in alto sì vogliamo essere positivi per cui è raffigurato come cavallo morente per l'autore invece per lo scultore è rampante e io lo vedo come un rampante che vuole dopo che ha lottato e a tutti i costi voglia di vivere qui è tutto da periele mazzini 14 nerone saluta saluta nerone ciao a tutti alla prossima ciao